Non ci attacchiamo, manteniamo un po' di distanza. Meglio prevenire, quindi io vorrei proprio fare la quarta dose per cercare di rimanere protetta. Se questa variante qui che è un po' pericolosa, stando a quello che dicono, io alla scienza ci credo, i medici pure, va bene, la facciamo e poi vediamo. Si fa la quarta dose perché questa ondata di contagi preoccupa? Sì, avendo compiuto gli 80 preferisco mettermi al sicuro. È una questione di precauzioni personali e quindi con mia moglie ci facciamo il vaccino. Adesso che ci hanno aperto la possibilità di poterlo fare, avendo superato i 60 anni, stiamo facendo il nostro vaccino.